Dai recenti sondaggi appare un dato incredibile. La maggioranza degli italiani è scontenta di Conte. Ma non perché ci sta traghettando tutti nel totalitarismo e nella miseria. No, al contrario, perché è troppo morbido e dovrebbe adottare misure più dure. Pazzesco. Mi viene in mente un'affermazione fatta dal personaggio Morpheus rivolta al protagonista Neo nel film Matrix, affermazione che recita così. Devi capire che la maggior parte di loro non è pronta per essere scollegata. Tanti di loro sono così a suoi fatti, così disperatamente dipendenti dal sistema che combatterebbero per difenderlo. Ecco, mai frasi cinematografiche il risultato così attuale e così veritiera. Gli italiani devono ritrovare con urgenza il senso del coraggio, perché tutta questa paura sta condannando tutti noi e i nostri figli a un futuro fatto di schiavitù e di miseria.